uno schema mentale umano entità a maestro andrea attraverso corrado piancastelli domanda riferendoci alle nostre comunicazioni cioè ai nostri rapporti col vostro mondo e in funzione di una logica particolare di nuovi parametri mentali semantici discorsivi sarebbe possibile far filtrare qualcosa in più secondo un nuovo più realistico rapporto questo potrebbe aiutarci a determinare altri concetti a illuminare altri problemi maestro andrea ricorrere a parole diverse da quelle che normalmente può manifestare uno schema mentale umano è pressoché impossibile ovviamente perché parliamo due lingue diverse in senso reale due lingue diverse ognuna in sé complessa senza poterci aiutare con la mimica o con altri sussidi visivi perché si tratta di una manifestazione puramente descrittiva di un'altra realtà dal vostro punto di vista mentre dal nostro punto di vista il non spazio e il non tempo non sono racchiusi in nessuno schema di tipo mentale perché sono delle realtà esistenti che lo spirito intuisce come vere trovando un immediato riscontro nella propria struttura direi che è un'evidenza come lo è per voi la vostra realtà questo però indubbiamente può già facilitarvi il compito di tentare una diversa individuazione di questo rapporto senza ricorrere agli schemi umani perché essi ripeto non possono portarvi lontano già la stessa definizione di schema è una definizione chiusa a voi mancano dei supporti elementari per esempio la capacità di intuire l'infinito è una lacuna del vostro schema mentale e naturalmente più ci avviciniamo alla nozione di non tempo e non spazio più si avverte l'impossibilità di spiegare a fondo tale questione senza che ci sia neppure una vostra capacità di intuire l'infinito che pure è per noi una realtà evidentissima una cosa assolutamente certa sulla quale non c'è più alcuna discussione possibile